è una cosa veramente importante e a cui ci tengo molto il rispetto dell'ambiente e il rispetto dell'ambiente e il rispetto di quello che si va a produrre scelto di diventare un agricoltore perché si è in contatto con la natura perché comunque il fatto di essere fuori che potrebbe essere la giornata di sole però anche la giornata di pioggia, dà un senso di libertà, dà un senso di indipendenza, non essere vincolato a degli orari o comunque a un qualcosa che può essere standardizzato. Quindi il fatto di fare l'agricoltore è proprio un fatto di dire sono indipendente, decido io cosa devo seminare, decido io cosa devo raccogliere, coltivare, decido cosa voglio fare. Grazie a tutti.